Ciao ragazzi, a dopo. Come stai? Allora, complimenti ragazzi. Del cibo ragazzi, siamo in Maldovea e poi... Scusate, stai chiamando il grande capo, il boss. Torpedi, ne dica. Si può dire che siamo curiosi, eh? No, no, non si può dire. Belle notizie, bellissime notizie. Ti devo dire una cosa, Chiara. Non conoscerai mai, dimmi chi sei... Come mi sa? Beh... Però qua ci sta un surf, dai. Dimmi che fai, che solo me sceglierai... Ciao. Ciao ragazzi. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore.